Via De Vismangia, in pole position, Davide e Nicola. L'amara sconfitta rimediata dal Bari a Crotone è costata alla panchina al tecnico di Cernusco sul Naviglio, mentre il club, per correggere la rotta, è orientato ad ingaggiare l'ex allenatore del Livorno. La crisi tecnica dei pugliesi si è palesata negli ultimi 30 giorni. Dopo la vittoria per 4-2 con l'Avellino al San Nicola davanti a 25.000 spettatori il 19 ottobre scorso, Caputo e compagni hanno collezionato un solo pareggio e 4 K.O. La piazza è insorta, i tifosi hanno esposto anche all'uscida di Crotone lo striscione con suo scritto «Rispettate la maglia». Il presidente Gianluca Paparesta, che aveva tergiversato sul cambio della guida tecnica dopo lo stop con la Ternana, ha dato il ben servito a Mangia. La squadra in questa parte del torneo non ha mai mostrato di avere acquisito una identità di gioco, mentre la difesa è apparsa davvero un colabrodo con 25 gol subiti, tra le peggiori della categoria. Oggi al capezzale della squadra per guidare l'allenamento ci sarà il tecnico Giovanni Loseto, bandiera biancorossa, in attesa dell'arrivo di Nicola, che avrà il compito di ridare la speranza di un campionato al vertice agli oltre 11.000 abbonamenti al San Nicola. La priorità per la società biancorossa è quella di chiudere l'accordo con Davide Nicola, già contattato dal club pugliese dopo la sconfitta di lunedì scorso con la Ternana. Ieri sera, intanto al termine dell'incontro con il Crotone, non sono mancati momenti di tensione. Una folta delegazione di tifosi ha atteso fino a tarda ora lo stadio di Bari i giocatori che stavano rientrando a bordo del Pullman. Per evitare scontri e contestazioni, i dirigenti della società biancorossa hanno deciso di cambiare l'itinerario di ritorno, percorrendo strade alternative, posticipando l'orario di arrivo della squadra che è rientrata a Bari alle 2 di questa notte, ad accogliere i giocatori soltanto un piccolo gruppo di tifosi che ha promesso di organizzare nei prossimi giorni una manifestazione.